L'open day vaccinale per gli over 60, disposto dalla regione toscana, non ha visto una vera e propria corsa al vaccino nella zona dell'Asa Toscana Nord-Ovest. Erano 850 le dosi di vaccino Vaxevria ex AstraZeneca messe a disposizione in tre hub regionali, quello di Carrara Fiere, quello di Ponte d'Era e quello di Venturina. In questi tre hub, gli over 60, che non si erano ancora prenotati sul portale regionale, avevano la possibilità di essere vaccinati direttamente, semplicemente presentandosi muniti di documento e testera sanitaria. A Carrara la somministrazione era possibile dalle 8.30 fino alle 24, ma delle 500 dosi disponibili ne sono state somministrate poco più di 150. Il governatore Gianni si è detto comunque soddisfatto di questa esperienza, ipotizzando di estenderla anche alle altre fasce di età. Se ci sarà spazio, se nel senso che a raccogliere questa indicazione al volo da un giorno all'altro, come stiamo facendo, perché la vaccinazione libera può essere fatta nelle 24 ore precedenti, se vediamo che ci sono disdette o non si creano gli spazi giusti fra chi avevamo prenotato. Se questa vaccinazione può ulteriormente andare avanti, l'apriremo anche ai 50 anni o anche ai 40 anni. E per quanto riguarda l'accordo per la somministrazione nelle farmacie, la pratica è stata portata in giunta per l'approvazione. Ma Gianni è scettico sulla sua possibile entrata in operatività, a causa della ridotta fornitura di dosi da parte delle case farmaceutiche. Io avevo voluto arrivare strettamente all'accordo con queste categorie per avere più bocche di fuoco nella nostra capacità vaccinale, mentre è sempre molto instabile e non programmabile quello che arriva di AstraZeneca, di Moderna, della stessa Johnson & Johnson. Quindi probabilmente un po' quell'ettimismo di vivere un giugno con tanti vaccini da poter utilizzare tutte le nostre bocche di fuoco, non so se si realizzerà. Il fatto sta che comunque almeno quei 30 mila al giorno ormai è una media che riusciamo a esploitare. Grazie.